È un'iniziativa che è partita tutta all'improvviso, visto veramente che c'è gente, soprattutto in Calabria, che ha veramente bisogno in questo momento. Quindi ho detto perché non mettere in campo la mia professione e la professione dei miei colleghi. Siamo un gruppo di professionisti, abbiamo pensato di fare dei pasti per i più bisognosi e quindi è durata l'iniziativa tre giorni. Siamo partiti con mille pasti, siamo arrivati a consegnare fino a 1800 pasti. Questo fa capire la mole di persone bisognose che ci sono. Abbiamo fatto un po' dei menù che riguardano il territorio, abbiamo toccato anche dei menù un po' particolari, tipo il salmone a bassa temperatura con insalata di barbabietola, ceci, carote e sedano. Poi siamo passati dalla carne, dal maialino nero oppure della pasta un po' particolare col pesce che magari tanta gente non si può permettere in questo momento. Questa esperienza per me significa tanto, fa capire veramente che in un momento all'improvviso può succedere di tutto. Magari c'è chi si poteva davvero prima permettersi anche da mangiare e all'improvviso non è stato più così. Quindi nulla, fare del bene in questo momento secondo me è importante, deve continuare, deve continuare questa attività, questa operazione per le persone più bisognose, che continueranno ad esserci e non bisogna mai lasciarle da sola.